un due tre ciucciucca la terrena popolabile prima di tutto che cos'è? perché popolabile? popolabile potrebbe sembrare terreno edificabile oppure che ne so aria di espansione urbana invece no popolabile è il sunto però vola no? è come quando fai una colpettina vola qualunque ama la musica popolare un po' labile e un po' abile quindi una cosa importante è che facendo anche una dedica al grande Massimo Troisi come diceva Massimo Troisi a me sto pezzuccare la chitarra non mi serve proprio perché non so non so come si adopera cioè sinceramente che cos'è? 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 il guarracino parla praticamente di un pesce un pesce brutto perché il guarracino è appunto brutto spinoso che a un certo punto però decide che si vuole sposare allora dice il guarracino che gli fa per mare ne vede voi ne censurà si faccia con un bello vestito le spine di scatto in una parrocca e un tangro fa e un ivatino quella che cos'è? è ilперato il guanson questo guarda ho che cos'è? che cos'è? è altro che cos'è? che cos'è? che cos'è? on' uno non o si Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti